pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao e benvenuto la nuova puntata di pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale io sono francesco posate al microfono autore e voce del podcast dall'altra parte del monitor c'è marco pennacchini design del suono e curatore della rubrica pct digitale la pillola digitale che arricchirà la puntata per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico come sta andando la ripresa dall'attività spero che tu abbia trovato utili 10 consigli che ti ho condiviso nella puntata 32 ormai l'attività è ripresa a tutti gli effetti e le vacanze sembrano tanto lontane se non sei un nomade digitale se invece sei un sedentario analogico a rientro da studio una delle due prime attività è quella di leggere ed evadere tutte le mail arrivate alla tua inbox durante la feriale gli avvisi di cancelleria le richieste dei clienti i contatti dei colleghi se non fai attenzione dietro a una di queste mail dall'aspetto a te familiare rischi di avere delle brutte sorprese come un virus un ransomware o un trojan termini questi che ormai gli avvocati tecnologici stanno incominciando a conoscere senza contare poi lo spam che intesa la tua mail rendendola illegibile nella puntata di oggi parleremo di sicurezza informatica ai tempi delle mail se hai seguito il podcast nel mese di agosto nelle precedenti puntate ho parlato di come la messaggistica istantanea stia rivoluzionando il mondo della comunicazione professionale sempre più immediata ma che ti consente anche di gestire il tuo tempo ti ho raccontato infatti l'impatto che avranno le applicazioni di messaggistica istantanea e i vantaggi che si apportano fino a sostituire la tanto nostra cara mail questo sarà il futuro prossimo ma il presente è che in ambito professionale oggi la mail rimane il primo vettore di comunicazione le connessioni elettroniche si intensificano i rapporti si dematerializzano i contatti umani diminuiscono questo ha dei vantaggi ma nello stesso tempo aumentano anche i rischi le nostre belle mail come delle belle mele rischiano di essere bucate da inaspettati vermicelli worm in informatica particolare categoria malware software dannoso che insieme ai virus compromette la sicurezza dei nostri sistemi informatici ma prima di trattare il tema nel condividerti sei consigli per proteggere i tuoi dati ringrazio il portale giuridico avvocato andreani.it risorse legali che da venerdì 16 di settembre 2016 ospita il podcast pct facile gli utenti potranno ascoltare anche dal sito dell'avvocato anna andreani che si aggiunge ai canali di diffusione quale avvocato tecnologico punti t sun cloud spreaker e itunes del panorama web giuridico avvocato andreani punti risorse legali occupa un posto di rilievo il sito è stato il primo in italia a favorire l'automazione dei processi di lavoro all'interno degli studi legali italiani per le sue risorse disponibili gratuitamente alzi la mano chi non ha utilizzato le swap nel calcolo del contributo unificato o dei diritti di copia nell'era cartacea o il calcolo degli interessi delle rivalutazioni monetarie delle parcelle secondo il dm 55 oppure le leggendarie app del calcolo dei termini e in salsa telematica le recenti app per la redazione delle relate di notifica telematiche o delle infernale attestazioni di conformità un sincero grazie alla titolare anna andreani un vero avvocato tecnologico a tutti voi ascoltatori che ci seguite dai vari canali è aperta la possibilità di sostenere il podcast tramite una recensione a 5 stelle su itunes o una condivisione nella vostra rete sociale della puntata che state ascoltando oppure potete finanziare in crowdfunding l'intero podcast su padron.com slash fposati o le pubblicazioni delle singole puntate tramite la pagina paypal.me slash fposati slash 5 come dico sempre le grandi azioni iniziano sempre dai piccoli gesti a te la scelta di come contribuire al podcast per lasciare insieme il segno ora iniziamo la nuova puntata di pct facile. Negli ultimi anni aumentano gli attacchi hacker che ledono la nostra sicurezza informatica virus ransomware malware in generale sono sempre più frequenti e uno dei cavalli di droga è costituito dalle nostre innocenti mail contenitori della nostra identità digitale il sito over serverity.net ha diffuso la notizia che un recente attacco informatico infatti ha compromesso il dataset di libero mail mettendo a repentaglio i dati degli utenti. Nel comunicato ufficiale il provider italiano ha invitato a cambiare la password e ad attivare l'autenticazione a due fattori per aumentare il livello di sicurezza. Di autenticazione a due fattori ti ho iniziato a parlare nella puntata dedicata a telegram in particolare la puntata 33. Fino a ieri non c'era tanta consapevolezza sull'importanza della sicurezza online. Molti professionisti attivavano e continuano ad attivare email su provider esterni quali libro tiscali in Italia o situati in territori extra europei come Gmail, Yahoo e Outlook, indirizzi email che utilizzano anche per il lavoro. Tuttavia cedono la propria sicurezza, la privacy e la gestione del dato a terzi di cui non hanno la gestione e il controllo. Non danno il giusto valore ai propri dati. Adottare soluzioni gratuite, ripeto, gratuite, potrebbe costare molto caro un giorno se un virus infetta la nostra mail o subiamo un accesso abusivo informatico. Come ci ha ricordato poi Francesco Minazzi nella puntata 10, Mando vai se la privacy non ce l'hai, il codice della privacy prevede infatti all'articolo 34 che il trattamento di dati personali effettuati con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B, una serie di misure minime di sicurezza. Tali misure sono volte tra l'altro a ridurre al minimo i rischi di una perdita o distruzione anche accidentale dei dati ed un accesso non autorizzato agli stessi. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. In una visione a 360 gradi il professionista digitale deve investire nella mail personalizzata sul dominio proprio, poiché oggi le mail sono il nostro biglietto da visita digitale e i costi oggi sono accessibili a tutti, poche decine di euro per l'acquisto di un dominio. Avere l'indirizzo mail personalizzato nome casella-tuodominio.it ad esempio è sinonimo infatti di unicità e professionalità sia in ambito privato che lavorativo. Ti permette di essere identificato in modo unifico e originale. In generale la sicurezza della tua mail ordinaria dipende sempre dalla tua capacità di riconoscere i pericoli e di non abboccare all'amo, a differenza di una posta elettronica certificata che ha standard di sicurezza maggiore. Infatti sono i gestori accreditati che verificano la presenza di virus nei messaggi. A riguardo farò anche un podcast dedicato sul perché oggi un avvocato tecnologico dovrebbe usare la PEC nelle sue comunicazioni. È ora di superare l'equivoco culturale ed ontologico PEC uguale e raccomandata. La nostra inbox oggi è importante perché è la nostra prima identità digitale. La usiamo per accedere ai social network e per ricevere comunicazioni importanti di lavoro, di affari o personali. Se compromessa, rubata o spiata avrai seri problemi reali non virtuali. Nella maggior parte dei casi, causa di infiltrazioni nelle caselle mail è la disattenzione del proprietario e la sua ingenuità che lo porta a cascare nei tranelli o ad attivare virus involontariamente. Purtroppo la sicurezza informatica è una di quelle cose che si imparano sulla propria esperienza. Nell'ambito professionale non c'è ancora la cultura della prevenzione. I tempi tuttavia sono maturi per cambiare la tendenza. Anche perché i numeri parlano chiaro. L'Italia sta registrando un aumento del 14 per cento degli attacchi informatici ed è stato il terzo paese europeo più colpito dopo Serbia e Romania ed è balzato al 35esimo posto nella classifica mondiale dei paesi più attaccati a febbraio 2016. Dati forniti da Checkpoint Software Technologies Ltd, uno dei maggiori distributori di soluzioni informatiche di sicurezza. Ora ti condivido i 6 consigli base tratti dal portale navigaweb.net per prevenire e ridurre il rischio di possibili attacchi. Usare account di posta elettronica separati. Come ho già detto nell'introduzione, la mail è l'hub centralizzato della nostra attività online ed anche offline. Avere account di posta elettronica separati rafforza la sicurezza ed è anche più produttivo. Infatti diventa più facile distinguere le mail importanti, che stanno in una casella di posta specifica, da tutto il resto e per poter utilizzare in tranquillità la casella mail secondaria. Avere invece un unico indirizzo mail che raccoglie tutte le notifiche di Facebook, le registrazioni a siti web e alle newsletter, i messaggi privati di lavoro e eleve il rischio di perdere i nostri dati in caso di account compromesso. 2. Creare una password univoca. Questo consiglio potrebbe sembrare una stonatura a te che ascolti, però pensaci un attimo. Se si possiedono tanti account in diversi siti, la mail primaria, quella secondaria, la banca, Facebook, Twitter, Paypal e Bail e aggiungici quello che vuoi, non ha alcun senso stare a scrivere una password diversa per ciascuno e pretendere di ricordarla a memoria. È vero anche che non possiamo rischiare di usare la stessa identica password per tutti, altrimenti se questa fosse scoperta da un estraneo potrebbe accedere a tutti gli account personali. Quale soluzione quindi? Usiamo sistemi centralizzati a cui accediamo con un'unica master password. Sul mercato ci sono applicazioni per gestire le password degli account web come LastPass, OnePassword, PasswordBox o KeyPass che gestiscono in modo integrato le password. Al loro interno questi applicativi hanno anche un generatore di password sicure per la registrazione di nuovi servizi online. Poniamo anche un occhio alla tipologia delle connessioni web delle pagine a cui ci colleghiamo. Tutto quello che si scrive su un sito che inizia con HTTP e non con HTTPS può essere visto dall'esterno e viene trasmesso in chiaro, anche se sullo schermo lo spazio riservato alla password è coperto da pallini in quanto i dati non sono né cifrati né criptografati. 3. Fai attenzione alle truffe di phishing. Il phishing è quella tipologia di mail che tradiscono la fiducia del destinatario. Sembrano provenire da istituzioni come le poste, Equitalia o la propria banca ma che nascondono il pericolo di fidare sempre dalla comunicazione bancaria via mail e riflettere sul fatto che nessuno regala soldi. Prima di continuare con i rimanenti tre consigli ascoltiamo Marco con PCT Digitale, la sua pillola del buon umore digitale. A te Marco! Ed ecco un nuovo appuntamento con PCT Digitale. I tecnici di Kaspersky Lab hanno trovato sul Play Store di Google una finta applicazione per i Pokémon Go. Si chiama Gid for Pokémon Go e fa notizia perché è stata scaricata da oltre mezzo milione di utenti ed è riuscita ad infettare 6.000 dispositivi perché non era un'applicazione chiaramente che riguardava i Pokémon ma era un virus. Google si è subito allertata e ha fatto sparire questa applicazione dal market. Qual è il problema però evidenziato dal Kaspersky Lab? Che sono moltissime le app presenti sull'Android Store, sul Google Play Store che in realtà nascondono infezioni. Quindi state bene attenti e qualsiasi cosa notate di strano segnalate a Google. Grazie Marco per questa nuova pillola e riprendiamo con la seconda parte della puntata. Ti condividi i rimanenti consigli per integrare la tua sicurezza nella gestione delle mail e non cadere in qualche trabocchetto. 4. Non cliccare mai sul link contenuti nelle mail di utenti non attendibili. In generale molte mail, secondo le regole del marketing, spingono all'azione. Richiedono di cliccare i link e anche le newsletter dei blog e dei forum. Le mail a cui fare attenzione sono quelle di spam che cercano di vendere o promuovere prodotti commerciali. A volte potrebbe essere sicuro, altre volte apportano direttamente dentro uno sciame di malware o virus. Parlando ancora delle mail ricevute dalla banca o qualsiasi altro servizio di pagamenti, nel dubbio visitare il sito collegato manualmente, senza fare copia, incolla e senza cliccare il link. 5. Non aprire o salvare allegati non richiesti e da utenti sconosciuti. Se ricevi file a sorpresa senza prima essere avvertito e senza indicazioni precise, meglio cessionare subito il messaggio. Eventualmente, anche se poi ti accorgi che se tratta di un errore, contatta il mettente e richiedi lì inoltre un aumento del messaggio. Non ci costa nulla. Un malware si può nascondere dentro a un file powerpoint o un pdf. Una volta giravano molte mail inviate a migliaia di destinatari con allegati powerpoint o con immagini divertenti. Oggi chiameremo memi che vengono ricondivise a catena. Oggi per fortuna questa pratica è in disuso, ma non vuol dire che il pericolo sia cessato. Anzi, si può contare sull'effetto sorpresa. Ti raccomando sempre anche l'uso di un buon antivirus a pagamento come il Node32 e di tenerlo sempre e costantemente aggiornato. 6. Evita le reti wifi pubbliche e libere Nel controllare la posta elettronica dal computer, quando ti colleghi a una rete libera trovata in giro, serve meglio evitare di scrivere password perché non sai se quella rete è sicura oppure no. Ci sono programmi chiamati sniffer di rete, utilizzati da hacker per intercettare il traffico di dati. In linea generale, è meglio non scrivere password con la tastiera. Controlla che i siti abbiano una connessione HTTPS crittografata e se proprio si deve scrivere, usa sempre una tastiera virtuale sullo schermo che è anche presente in Windows 7. Se la casella di posta fosse compromessa o persa, segui la guida per recuperare l'accesso e la password dell'account email. È fondamentale che per la procedura di recupero sia indicata sempre una seconda mail alternativa all'indirizzo principale compromesso. Termino qui questa puntata. Lascia un commento per farmi conoscere la tua opinione, i tuoi suggerimenti, sei altri consigli o esperienze anche da condividere. Mi puoi contattare su Telegram alla user Fposati oppure tramite email a me-francescoposati.it. Lascia anche una recensione al podcast 5 stelle se sei utente iTunes. Troverai il tutorial che ti guida passo passo. Se invece non hai iTunes, condividi tra i tuoi contatti social per far conoscere il podcast. È gradito un tuo contributo alla messa in onda tramite la pagina paypal.me slash Fposati slash 5 o alla pagina patreon.com slash Fposati in crowdfunding per l'intero podcast. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento. Ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore Francesco Posati per idee e suggerimenti richieste su telegram.me slash Fposati o scrivi a me chiocciola francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me slash Fposati slash 5 o in crowdfunding su patreon.com slash Fposati.